Dal 23 al 27 giorni di tantissime iniziative a Napoli che hanno coinvolto istituzioni, associazioni, scuole, davvero molto interessante, memoria per non dimenticare ma anche per non distrarsi nei tempi che viviamo perché continuano a esserci situazioni inaccettabili, da quello che accade nel mar Mediterraneo, alle mura che si innalzano, alle file di persone in Serbia, alle guerre, ai terrorismi, quindi bisogna impegnarsi tutti per un mondo migliore e chiaramente per poterlo fare innanzitutto non devi dimenticare quello che è accaduto in particolare nella prima parte del secolo 900. L'ultima giornata di una intera settimana dedicata alla memoria è cominciata questa mattina nel Borgo Refici, dove due mesi fa era stata effettuata una operazione di toponomastica particolarmente significativa. Al posto della vecchia denominazione intitolata Gaetano Azzariti, personaggio particolarmente discutibile per essere stato giurista fascista, antisemita e presidente del Tribunale della Razza, la strada ora si chiama via Luciana a Pacifici, una bimba di soli otto mesi che fu vittima proprio delle leggi razziali ed è qui che è stata deposta una corona di alloro in suo ricordo. Memoria serve per conoscere, non dimenticare, ricordare, trasmettere ma anche per trovare ossigeno per lottare perché anche oggi ci sono spettri pericolosi che si aggirano per l'Europa e portano all'odio, alla violenza, all'indifferenza. Napoli è una città che non dimentica e ha anche avuto il coraggio di trasformare con la toponomastica alcuni simboli. Prima qua c'era Azzariti, magistrato presidente del Tribunale della Razza, quindi una persona che con lo strumento della legge ha prodotto ingiustizia, c'è una bambina, Luciana Pacifici, che aveva otto mesi quando fu portata ad Auschwitz. Quindi questa è una città delle quattro giornate che ha il coraggio di non dimenticare, di cambiare e di lottare. Ed in prefettura, subito dopo, sono state consegnate le medaglie assegnate dal presidente della Repubblica alla memoria di cinque cittadini dei comuni di Napoli, Casamicciola Terme, Cerco, la fratta maggiore e Melito di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti. Ricordare persone che sono state internate nei campi di concentramento, che sono morte, che hanno lottato per la libertà. E poi la testimonianza dell'Avvocato Arcella, che devo dire tocca le corde più profonde di ogni essere umano, perché 98 anni, l'ultimo testimone vivente di un campo di concentramento lucido, che ha raccontato in un quarto d'ora che cosa è stata la fotografia di quegli anni. Sembra un altro mondo, eppure è successo poco tempo fa. Quindi il memoria significa anche continuare a lottare perché non accada mai più quello che è accaduto nella metà del Novecento. Dei segnali di angoscia e di preoccupazione nel mondo ci sono. Ecco perché per noi questa giornata è importante, lo è particolarmente per Napoli, che è stata la prima città d'Europa a liberarsi con una rivolta di popolo dall'occupazione del più potente esercito di quell'epoca che girava sicuramente per l'Europa e anche nel mondo, che era l'esercito tedesco. Quindi è una giornata davvero importante.